Muy buenos dias model, oggi parliamo di alimenti senza zuccheri, scritto in spagnolo però cerchiamo di capire, quindi zero zucchero, questo alimento non ha zuccheri, ha fibre, è per i vegani, i vegani vivono di zuccheri quindi non avevamo dubbi e quindi sembra, si presenta come un alimento buono, qui addirittura la tabella dove lo classificano sul verde, il verde deve essere per forza qualcosa di buono, dice che ha fibre e dice che ha pure olio di girasole, quindi adesso andremo a capire se è un alimento buono, le persone guardano le etichette e comprano questo tipo di alimento pensando che abbia meno zuccheri Allora, andiamo a vedere i valori nutrizionali, spero si vedano Qui dice che prima di tutto ci dà quella che è una quantità, una porzione, no? E dice un biscotto Un biscotto, io credo che nessuno mangi solamente un biscotto di questi ma se uno lo apre ne mangia, mediamente forse ne mangiano metà o comunque un terzo va via E quindi in realtà c'è già molto di più di quello che era comandato viene mangiato Comunque su 100 grammi questo alimento ha carboidrati 65 grammi di cui zuccheri 0,5 Quindi già qua le persone si confondono, no? Quindi ah ma saranno carboidrati buoni? Ma i carboidrati sono carboidrati Abbiamo visto e sappiamo che i carboidrati in eccesso stimolano un eccesso di insulina e tutto ciò si trasforma in triliceridi Ovvero grasso A dire la verità sono quei grassi, i triliceridi sono quelli pericolosi Che poi è questo grasso che gira per le arterie, fa danni, si accumula, si ferma lì nelle arterie Quindi i triliceridi alti sono pericolosi Che cosa li fa i triliceridi? Beh l'eccesso di zuccheri Questa è una bugia, questa è assolutamente una bugia Vediamo perché Su 100 grammi noi abbiamo 65 grammi di carboidrati Vediamo che cosa si intende Poiché noi abbiamo il metabolismo, no? E ci sono tanti alimenti che danneggiano il metabolismo, lo fanno rallentare E sebbene questa cosa si è sempre detto che non esiste In realtà esiste come? Perché un 50% del mondo ha problemi di metabolismo lento Un 50% del mondo ha problemi di tiroide Ci sono tantissime donne che hanno problemi di tiroide La tiroide influenza il metabolismo, influenza la temperatura corporea Quindi ci sono tantissimi fattori che entrano in gioco per creare quello che è un metabolismo lento Quando le persone mangiano e si orientano magari per una colazione con questo tipo di alimenti Vediamo che su 100 grammi abbiamo detto 65 Meno quasi 10 grammi di fibre Quindi questi li togliamo Facciamo lo sconto E sono effettivi quindi 55 grammi di carboidrati Una volta che li mangiamo c'è il metabolismo appunto che trasforma questi carboidrati in glucosio Noi il glucosio certo lo necessitiamo Assolutamente sì che lo necessitiamo Il corpo necessita glucosio Il problema del giorno d'oggi è che noi viviamo in un bagno di glucosio che ci porta tante malattie Un bagno di glucosio che ci porta un eccesso di insulina Pensiamo che un miliardo su 7 al diabete è perché l'alimentazione si basa su un eccesso di glucosio Quindi abbiamo detto con lo sconto 55 Queste sono buste di zucchero Quindi è effettivamente quello che poi una volta mangiato Se questa etichetta ti confonde la puoi chiarire così Queste sono buste da 5 Quindi 100 grammi di biscotti Questi sono 170 grammi Non sono tanti A volte persone dai ce lo mangiamo una volta Però metarsi Quindi su 100 grammi Poco più di metà abbiamo 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Questo è esattamente tutto ciò che noi abbiamo nel sangue dopo che abbiamo mangiato questo Ovviamente sono un eccesso Sono alimenti che vengono dati come per buoni con una buona etichetta Contengono fibre Non significa niente Le fibre non le assorbi bene le togli Restano comunque questi Se non avesse fibre beh ne avrebbe altre due in più Quindi se li prendete senza fibre senza steroide qua semplicemente due in più Non è vero che se entrano più lentamente più velocemente abbiamo visto l'integrale ha confuso le persone In altri video parleremo dell'integrale L'integrale ha confuso le persone perché cambia semplicemente la velocità con cui entra nel sangue Ma la quantità non cambia Quindi se io mangio questo lo faccio entrare più lentamente perché magari è integrale Perché magari è Entra più lentamente Le conto più lentamente Anziché farle entrare in un'ora le facciamo entrare in tre Non cambia niente A meno che tu non sia un ciclista o un maratoneta Per cui dopo di questi vai a correre E anche lì non è detto che vengano metabolizzati tutti Abbiamo visto che il corpo non è fatto per metabolizzare così tanti zuccheri Abbiamo visto gli AIDS che sono zuccheri non correttamente metabolizzati Che si appiccicano alle proteine del corpo creando dei danni Creando malattie Pensate al zucchero filato che appiccica Pensate in realtà al fatto che tante colle siano proprio Nascano proprio dal zucchero Dallo zucchero Quindi lo zucchero appiccica Si appiccica sui tessuti E quindi fa dei danni Questi tipi di alimenti sono da limitare A giorno d'oggi dicono un po' di tutto nelle giuste quantità Ma in realtà sono alimenti che non apportano niente di buono Se non lo sfizio Se non che sono buoni Se non che l'industria alimentare si basa su queste robe qua Se tu smetti di mangiare questo L'industria alimentare crolla Quindi ecco il motivo per cui le persone e il mondo continuano a mangiarlo È la cosa più corretta? No, non è la cosa più corretta Ti sta facendo male Io sono Luca Veronese Esperto in strategie bruciagrassi e metabolismo lento Questo canale parla proprio di questo Se questo video ti è stato di aiuto per capire se questo alimento al mattino va bene oppure no No, ti sta scatenando un eccesso di insulina Quando c'è un eccesso di glucosio e un eccesso di insulina Significa che stiamo ingrassando Iscriviti al canale e condividilo con qualcuno che può avere Che magari fa questa colazione da 20 anni Ci vediamo alla prossima Ciao